Ciao ragazzi, è tutto sonato, va bene. Allora, staremo qui, faremo qualche challenge, scriveteci sotto nei commenti, ma perché non mi faccio una live? Perché non posso fare una live? Mmm, in questo video adesso vi faremo vedere una bellissima scritta. Oh yeah! Valentina! E' così, ragazzi, niente, qua abbiamo Melissa con il sogno di colato. Ciao ragazzi, è Nina e oggi andiamo a fare un nuovo video, questo video è su uno dei miei migliori amici, Alex, Melissa e Valentina. E oggi andiamo a recordare... no, Valewiz, oh my god! E non altro, ragazzi, vediamo nel prossimo video, bye! Ciao ragazzi, ma io sono Nicolino e ho un nuovo video, oggi ho un video che ci vediamo con Melissa, mio amore del progarezza, Alessio, pozdravi! E ogni ciavozietti biciclo, posso accedere a scuadino a scuadino a scuadino a scuadino e a scuadino, e vi c'è un nuovo, ciao! Un ottimosissimo, muccerino, moscone, c'era di tutti, me volevano ammazzare e ho dovuto fare un salto di quelli che mi sono fatta male alle cosce, alle caviglie e anche al suiere. Allora, che devo riprendere? Siete tutti aggirati le spalle, il suiere di chi riprendo? Allora, stai riprendendo? Sì! Riprendiamo tutti, fare un saluto? Non saluto! Valentina, mi aspettavo un saluto caloroso e non un ignorante, un ignorare le persone. 3, 2, 1, aiuto ma se soffiono bene oddio ho paura di quello, io zoom vai Melissa investici non nel vero senso della padora grazie a tutti